Buongiorno, ben trovati. Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Iniziamo la nostra rassegna stampa dalle prime pagine regionali. Partiamo dal quotidiano Il Centro, nell'edizione di Pescara. Il titolo di apertura è dedicato alla nuova Pescara o alla grande Pescara, che dir si voglia, fusione dei comuni, tasse bloccate. Ciascun territorio resterà con la propria tariffa. Nel taglio alto invece troviamo ancora gli sviluppi dell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano. Il prefetto non ci ha convocati forze dell'ordine soccorritori. Il 16 gennaio provolo non riunì il comitato. Andiamo a vedere. Il 16 gennaio 2017 non ho ricevuto nessuna convocazione dalla prefettura di Pescara. Quello che riferiscono le forze dell'ordine soccorritori e gli investigatori è una smentita a quanto affermato nei giorni successivi alla tragedia dal prefetto Francesco Provolo. Il comitato operativo per la viabilità fu convocato solo il giorno della tragedia, troppo tardi. L'inchiesta, altri sviluppi delle mail, la prova che coinvolge la politica e poi la qualità della vita, Belluno in testa, in Abruzzo, Bene, Teramo e Pescara. E poi l'Ateneo di Teramo con l'indagine che riguarda il rettore D'Amico e il titolo doppio incarico e peculato, indagato il rettore Luciano D'Amico. Andiamo a vedere nelle cronache. Da Città Sant'Angelo, volo cancellato e l'Italia risarcirà i danni morali. E poi Pescara scaglia il televisore contro la ex, un giovane finisce in cella. E ancora la Coppa Italia e dunque parliamo del Pescara che va a Genova e Zeman rilancia Campagnaro in difesa. A centropagina ancora notizia da Pescara, la decisione del Consiglio Comunale, novità nei musei, apertura nei festivi e biglietto unico. Museo del Mare e Museo Cascella, che vedete nella fotografia durante una visita di Vittorio Sgarbi per una mostra, affidati alla gestione della Fondazione Genti d'Abruzzo, già gestore dell'omonimo museo in Via delle Caserme. Grazie alla convenzione sarà possibile accedere ai tre musei cittadini con un biglietto unico, nei weekend e nei festivi. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro. Nel Taglio Basso troviamo come ogni mattina il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, la bufala di Mad Mike, cioè la terra è piatta. E' questo il caso di un 61enne che di mestiere fa l'autista di limusine che si è messo in testa di dimostrare che la terra è piatta. Per farlo ha raccolto 310 mila dollari e ha costruito un razzo con cui salire a 500 metri di altezza per provare che la terra è una grande piadina. Il soprannome di Mike Hug è Mad, cioè pazzo e questo fa capire anche la tipologia del personaggio. Ma quella che propone Giuliano Di Tanna è una riflessione sulle fake news che rimbalzano ormai sui media e soprattutto su internet. Proseguiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Chieti. Il titolo di apertura del vecchio via con 185 mila euro. A Chieti l'ex DG dell'adannunzio viene licenziato ma avrà un anno di stipendio. Ritroviamo ancora nel taglio alto gli sviluppi dell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano. Andiamo a vedere invece nelle cronache a Lanciano a processo per la casa data alle prostitute. Poi da vasto raggiri e furti il cimitero passa ai privati. Ancora Francavilla, concorso di idee lanciato dall'amministrazione comunale per far risorgere Piazza Sirena e soprattutto per risistemare il portale del palazzo rimasto in piedi dopo l'abbattimento dello storico Palazzo Sirena. A centro pagina la cultura in lutto, i funerali al Santissimo Crocifisso, morta nello schianto domani l'addio a Miria Ciarma. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere adesso la prima pagina dell'edizione di Teramo. Il titolo che abbiamo già visto anche in precedenza, doppio incarico, le accuse al rettore, il PM, soldi percepiti indebitamente. D'Amico si difende e dice posso chiarire tutto. Nel taglio alto la crisi a Teramo, ok dall'aggiunta alla seconda versione del bilancio. E poi nelle cronache, il 46enne di Silvi nei guai obbliga la moglie a vedere i siti porno e va a processo. Ancora da Sant'Egidio, daspo di 5 anni a 27 tifosi violenti. E un'altra notizia che invece arriva da Teramo, salta lo spettacolo di prosa previsto al Palaz Sport. A centro pagina il calcio di Serie C con il derby che si è giocato ieri allo stadio Bonolis. Teramo generoso ma spuntato, festeggia la Samb. Andiamo a leggere nella didascalia, davanti a 2700 spettatori, il Teramo perde in casa per 0-2 il quasi derby con la San Benedettese. Partita combattuta ed equilibrata che i biancorossi potevano benissimo pareggiare. Gli ospiti però sono stati più cinici e concreti. E poi nella seconda parte della rassegna andremo a vedere anche le immagini, il servizio di Jacopo Forcella. Continuiamo con il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere l'ultima delle quattro edizioni provinciali, cioè quella della provincia aquilana. Le tasse del sisma vanno restituite. All'Aquila 120 aziende dovranno versare 15 milioni di euro all'Unione Europea. Nelle cronache andiamo a vedere le altre notizie. Carsoli, badante morta, un amico sotto inchiesta. Barisciano entra nel mappe e aggredisce un invalido. Andiamo a vedere anche notizie che arriva da Avezzano. Influenza, pronte 56 mila dosi di vaccino. A centro pagina il Palagiapan sarà utilizzato per i grandi eventi, sempre nel capoluogo di regione. Il Palagiapan Centicolella non sarà una struttura a disposizione delle attività sportive, ma verrà riservata ai grandi eventi come i concerti, per evitare figure imbarazzanti come l'esibizione di Noa dirottata a Pescara per mancanza di spazi. I lavori per completare il complesso riprenderanno a gennaio con 6 milioni di euro. La Baratelli dovrà spostare anche il prossimo spettacolo, che è quello di Rocco Papaleo, che si terrà a Teramo. Anche questa notizia la approfondiremo nel corso della seconda parte della rassegna. Andiamo adesso a vedere il messaggero nell'inserto Abruzzo, dunque cambiamo testata. Il titolo di apertura è su Rigopiano. Due giorni di inerzia, valanga sul resort, secondo i periti dell'albergo, andava sgomberato già il 16 di gennaio. La centrale operativa della prefettura convocata solo il 18, poi la catena di errori. Andiamo a leggere l'estratto dell'articolo. Ovviamente l'evento meteorologico di precipitazione nevosa non poteva essere evitato né mitigato dall'uomo. Viceversa, la mitigazione tempestiva e indiretta delle sue conseguenze lesive, quindi del rischio neve e del collegato rischio valanghe, si sarebbe potuta e dovuta attuare con la sespensione temporanea dell'esercizio dell'hotel Rigopiano e la tempestiva evacuazione delle persone presenti, scusate, ben prima che i quantitativi di neve al suolo rendessero ingestibile la percorribilità della strada provinciale. E' uno dei passaggi chiave contenuto nella corposa consulenza stilata dagli esperti della Procura sulla tragedia di Rigopiano, dove persero la vita 29 persone. Un punto fermo che è inciso a fondo nella svolta impressa all'inchiesta dalla Procura di Pescara con la nuova raffica di avvisi di garanzia che ha portato a 23 gli indagati per disastro colposo, omicidio colposo prurimo e lesioni personali. L'hotel Rigopiano andava sgomberato con ore, forse giorni di anticipo sulla valanga occorsa il 18 di gennaio. Continuiamo con la lettura del messaggero, andiamo a vedere gli altri titoli. A centropagina, qualità della vita, Pescara diventa città del benessere. Il centro adriatico scala 19 posizioni, gli altri capoluoghi tra luci ed ombre. Andiamo a vedere anche qui l'estratto dell'articolo. A sorprendere sono i 19 gradini scalati in soli 12 mesi da Pescara che va a piazzarsi addirittura all'ottavo posto nella tabella cultura e tempo libero. Ma a sorprendere nella classifica della qualità della vita del sole 24 ore c'è anche Teramo che fa le quattro province abruzzesi e quella che accumula il punteggio migliore in ambito regionale. Pescara infatti scivola al 102esimo posto per quel che riguarda la giustizia e la sicurezza. Molto bene l'Aquila nella macro area demografia e società che la vede al 16esimo posto. Mente Chieti è in testa nella tabella lavoro e innovazione con il 34esimo posto in graduatoria. Puntuali le reazioni politiche, il sole 24 ore, commenta il sindaco Marco Alessandrini, certifica che a Pescara si vive bene. Poi a centropagina ritroviamo una notizia che abbiamo già visto in precedenza. Teramo il rettore nei guai per la presidenza di Tua, Ateneo d'amico accusato di peculato. Continuiamo nel taglio basso il paradosso disco orario per gli invalidi. Si può essere disabile a tempo determinato? A fresa grandinaria forse sì. Da qualche giorno è stato infatti introdotto il disco orario per i quattro parcheggi riservati ai portatori di handicap. Nel taglio alto il Gran Sasso, esigenza di chiarezza nei laboratori. Andiamo a vedere perché l'esperimento SOX e le Iene. Ormai gli scienziati non possono più evitare il confronto su questo dibattito, sull'esperimento che prevede l'arrivo in Abruzzo di una fonte radioattiva dalla Russia. Continuiamo con la lettura del giornale. Nel taglio alto il ciclismo, Giro d'Italia-Abruzzo, protagonista con due tappe. E poi il volle di A2 si è cortona, l'infortunio di Banks crea allarme. Poi il calcio, Pescara nella Tana di Giampaolo, ma Palazzi si è rotto il crociato. Stasera partita in Team Cup contro la Sampdoria, bisogna ritrovare il gioco. Zeman schiera dall'inizio Gans, fino ad oggi oggetto misterioso in Serie B. Lasciamo il messaggero e proseguiamo con la lettura delle pagine regionali. Questa è la prima pagina della città, anche qui l'apertura è dedicata al caso dell'indagine sul rettore di Teramo. Chiuse le inchieste sul rettore, in carico alla tua e tablet, la procura ipotizza percezione in debite e peculato. Nel taglio alto il risse cerca tracce dell'assassino sul cadavere della pittrice. C'è trovato un pezzo di carta e poi ancora 46 anni a processo, botte alla moglie nel matrimonio da incubo. Proseguiamo con la lettura del giornale. Di Spalla, Unite, primo Ateneo d'Italia nel welfare e poi San Nicolò, patteggia per l'aggressione nel condominio. Ancora da Sant'Egidio, stadio vietato per 27 Ultras della Nuova Sant' e poi Teatro Comunale e Guerra Civile. Il TAR si dichiara incompetente a dirimere la controversia. Ma a centro pagina ritroviamo la notizia sulla classifica del sole 24 ore e sulla qualità della vita. In Abruzzo balza in avanti la provincia di Teramo, qui si vive meglio e il titolo sulla fotografia dall'alto del centro di Teramo. Poi troviamo anche la riflessione di Marcello Martelli, quel treno che passa, una riflessione sui fondi destinati alle ferrovie annunciati qualche giorno fa dal presidente della regione Abruzzo. Nel taglio basso troviamo il calcio di Serie C, il posticipo amaro per il Teramo, il diavolo sconfitto per 2-0 al Bonolis dalla San Benedettese. Lasciamo adesso le prime pagine regionali e ci spostiamo invece sul nazionale partendo dal Corriere della Sera. Il titolo di apertura, aiuti alle famiglie ma sconto ridotto sul super ticket, manovra l'antitrust contro la tassa su Airbnb. La legge di bilancio dovrebbe arrivare domani in Senato ma già in commissione sono stati approvati emendamenti che riguardano il welfare. Il fondo da 20 milioni per le famiglie con disabili a carico, il bonus bebè coperto solo per il 2018 e lo sconto ridotto per il super ticket. Intanto l'antitrust, come detto, contro la tassa cosiddetta Airbnb. E poi a centro pagina vedete la foto di Papa Francesco, il caso, chiede rispetto per i Rohingya senza citarli, Birmania l'appello del Papa. E poi futuro premier Salvini, non sapevo, Berlusconi frena su Gallitelli, sarà nel governo. Ha creato tensioni nel centrodestra, l'ipotesi lanciata da Berlusconi sulla candidatura a premier dell'ex generale dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli. Andiamo su Repubblica adesso, il titolo di apertura, il generale che divide la destra. Salvini stronca Gallitelli, candidato premier di Berlusconi, non ne abbiamo mai parlato. Fake news, una sola mano ha costruito i siti per la propaganda di leghisti e grillini. A centro pagina la vita da disabile, un anno dopo le stesse barriere nella città nemica, vivere nella capitale per un disabile, un'impresa quotidiana. Questa l'inchiesta che propone Repubblica. E poi ancora fisco e voto, tasse, uno slogan per tutti e con le promesse dei partiti, una lista da 40 miliardi. Nel taglio basso, notizia che sta facendo il giro del mondo, Megan la forza è principesca, io né bianca né nera, attacchi deprimenti sul fidanzamento dello scapolo d'oro della famiglia Windsor, cioè il principe Harry. Andiamo sulla stampa, il titolo di apertura, manovra, il governo promette soldi a chi cura i malati in casa. Previsti aiuti a figli, coniugi e genitori, ma serve una legge per ripartire 60 milioni in tre anni. L'antitrust boccia la tassa Airbnb, danneggia i consumatori, questa la motivazione. A centro pagina, bianchi e neri, lo sport fa tutti i fratelli d'Italia. Il tour nelle scuole per favorire l'integrazione con le esperienze degli atleti che hanno sfondato. Il sole 24 ore adesso, andiamo a vedere il titolo di apertura, un tax day da 32 miliardi, giovedì in scadenza 81 adempimenti fiscali, gli incassi maggiori dagli acconti IRPEF e IRES. Attesa anche la cedolare affitti, web tax in salita, tre decreti per attuarla, i colossi della rete pronti a trattare. E poi una notizia di editoria, un gruppo da 135 milioni di lettori, Meredith, con i fondi dei fratelli Koch, compra il Time. Andiamo a vedere le altre notizie. Nodi ANM e Avvocati, quindi dell'Associazione Nazionale Magistrati e degli Avvocati, salta il tagliatempi. Scontro sull'emendamento che prevede il rito sommario per i processi del giudice unico, Boschi frena Orlando. Il governo fa marcia indietro, alta la corsia preferenziale per 1,8 milioni di cause civili. Nel taglio alto il consueto focus del sole. Da giovedì la collana del giornale, nuovo risparmio e il manuale in 12 fascicoli per gestire i propri risparmi. E poi andiamo sul fatto quotidiano. Renzi accusa il Movimento 5 Stelle e lui è B e il titolo è i campioni di fake news. Dopo quelle di Berlusconi da Fazio, ecco le balle del bomba. Vitalizzi, Autoblu, referendum, lavoro, banche, Unione Europea e 80 euro. Vedete le foto di Renzi e Berlusconi con un naso da Pinocchio. Continuiamo sul manifesto, il quotidiano comunista. Il titolo sulla fotografia si salvi chi può. L'Italia ci ha detto di non effettuare i soccorsi e di aspettare le navi libiche. L'accusa della ONG SOS Mediterranea fermata mentre cercava di trarre in salvo un gommone in acque internazionali. Dall'Europa miliardi all'Africa a patto che fermi i profughi a mare e per terra. Nel taglio alto il regalo di Bruxelles alla Monsanto glifosato, side l'Unione Europea al rinnovo per 5 anni. Andiamo sul messaggero. Anche qui il titolo di apertura. Da Trump all'Italia sfida sul fisco un fondo per i familiari badanti. In Stati Uniti e Francia tagli per le imprese, da noi flat tax e IRPEF al centro della campagna. Manovra aiuti per chi assiste in casa malati gravi, l'antitrust boccia l'equo compenso. E poi il principe e l'attrice afroamericana fidanzati, la favola di Harry e Meghan, tristi i commenti sulla razza. E poi da Ostia una task force per la guerra dei clan, non serve l'esercito. I PM lotta per la successione ai boss locali e Gabrielli frena la raggi sull'invio di militari. Il tempo, restando sempre ai quotidiani romani e basta con Ostia mafiosa. A Roma ci sono ben 72 clan, ovunque nella capitale sparatori e droga, pizzo e riciclaggio, ma si parla solo del litorale. Ecco tutte le piazze del crimine. E poi a centropagina Mare Nostrum via i non comunitari. Il nostro cronista a bordo, gli stranieri rubano il lavoro agli italiani. Nascosti i veri numeri sui marittimi e poi parliamo di sicurezza. Ora libero, il titolo di apertura alla politica si arrende ai militari e magistrati. Democrazia in crisi profonda per salvarsi la pelle e i partiti. Anziché cambiare, si consegnano a poteri più forti e autorevoli, dietro ai quali mascherare i propri fallimenti. Silvio candida Gallitelli perché fiuta i tempi che cambiano. A centropagina, l'esonero dell'allenatore del Milan Montella. Il problema non è Montella cacciato via, ma gattuso assunto. Questa la critica, nemmeno troppo velata la scelta del Milan. Andiamo sul secolo d'Italia. Il titolo di apertura, no, ius soli, boom di firme. Sono più di 70.000 le firme contro lo ius soli, raccolte in due giorni da fratelli d'Italia. E poi in primo piano, nel taglio basso, la sconfitta dell'Italia. Ema fu flop di Gentiloni e poi Berlusconi. Io il presente, lancia il generale Gallitelli. Belluno, prima, caserta, giù, qualità della vita, Alpi, top. Proseguiamo su Avvenire, il quotidiano cattolico. Titolo di apertura anche per avvenire. Aiuti ai più fragili. Alvia il reddito di inclusione contro la povertà. Fondo perché assiste persone non autosufficienti. In legge di bilancio, 60 milioni in tre anni per i caregiver. Dal primo dicembre, le domande ai comuni per il REI. Risposta entro 20 giorni. A centro pagina, Messico senza pace, quattro uccisi ogni ora. Narcos scatenati, ottobre è stato il mese più sanguinoso. Ancora dagli esteri, in Libia, gli accordi sono già saltati. Ripartono i barconi, il caso schiavi al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il secolo XIX, il quotidiano genovese apre con gli aiuti a chi cura i familiari a casa. Quindi siamo alla manovra di bilancio. 60 milioni in tre anni per l'assistenza. Tassa Airbnb, no dell'antitrust. Aggiornamenti Istat, ecco il nuovo sistema di calcolo per le pensioni. A centro pagina, spari e omertà a San Quirico. Regna la paura. Il reportage da Genova, dal quartiere Teatro, di un attentato a colpi di fucile. Andiamo a vedere anche il mattino di Napoli. Il titolo di apertura, Fake News, l'alleanza populista. In furia lo scontro, dopo le rivelazioni del New York Times, il PD attacca Grillo la replica inchiesta montata d'arte. Una pista napoletana svela gli intrecci tra i siti di ispirazione grillina e quelli leghisti. E poi, verso la sfida fra Juve e Napoli, Higuain operato da una mano al Napoli tradito. Un gioco di parole perché Higuain è stato operato per una frattura alla mano e dunque salterà la super sfida contro il Napoli. Poi, la qualità della vita, Belluno e Caserta, Poli delle Due, Italia e la classifica del Sole boccia il Sud. Lasciamo i quotidiani generalisti, adesso invece andiamo a vedere quelli sportivi. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Chiaramente il titolo principale sulla notizia di ieri della svolta a Milanello. Svolta sciocca, addio all'aeroplanino, tocca Gattuso, ringhio Milan, ma Montella graffia. La proprietà cinese impone il cambio in panchina, Vincenzo sorpreso dal momento, avremmo potuto infilare un filotto di risultati che pensavo di meritarmi per come stavamo giocando. Rino è un amico meglio di lui, chi altri, dice Montella. Il commento di Umberto Zapelloni però non è l'unico colpevole, sotto accusa anche la campagna acquisti condotta dal Milan in estate, che evidentemente non è stata poi premiante. Poi la tattica, difesa tosta e aggressività, il diavolo cambierà così, i piani rossonieri, l'allenatore top per il futuro si pensa a Conte oppure ad un ritorno di Ancelotti. Andiamo nel taglio alto, le altre notizie, Juve, Tegola e Guaino, operato alla mano, salterà il Napoli. L'intervento al terzo raggio metacarpale sinistro, Buffon riapre alla Nazionale. Poi Cardi, Curva Nord, ritorna il Sereno, l'Inter si compatta, superate le polemiche legate all'autobiografia, polemiche ricorderete con gli Ultra. Quella corsa di Cagliari verso i tifosi a segnare appunto la pace fatta. Andiamo nel taglio basso, presentazione a Milano in TV, giro 2018, domani battesimo su Rai 2. Il tweet di Froome, Chris interessato alla Corsa Rosa, sta per annunciare la sua presenza? Si chiede la Gazzetta dello Sport. Andiamo sul Corriere dello Sport, anche qui il titolo principale riguarda il Milan. Il Milan ringhia Montella via, arriva Gattuso ma c'è Conte nel futuro. Rino al lavoro, sono onorato, ha detto, e già prepara la rivoluzione. Nel taglio alto, esaurito senza bianconeri, Febbre Juve e San Paolo da record. I tifosi si mobilitano, sarà uno stadio tinto d'azzurro, Mertens possiamo batterli. Higuain vuole fare il miracolo, Mandzukic pronto a sostituirlo, l'argentino operato alla mano prova a recuperare per Napoli Di Bala. Stavolta segno io queste le ultimissime sulla super sfida di venerdì. Poi nel taglio basso troviamo anche il calcio che riguarda il Pescara. Coppa Italia, Zeman da brividi, Samp Pescara in ballo, la panchina. Per quanto riguarda i problemi in Lega Calcio e soprattutto nella Lega di Serie A, spunta Vegas della Consob ma il sì è difficile. Tavecchio ottimista, siamo pronti ad eleggere il presidente così appunto da evitare il commissariamento per il quale invece spinge il CONI. E poi il nuovo corso così rinasce l'Italia del basket. Andiamo a vedere anche il titolo di Tutto Sport sulle spalle di Mario. Ovviamente si parla di Mario Mandzukic, il perché lo avete già capito. Venerdì Napoli Juve, lo stop di Guain, mano fratturata, costringe Allegri a confermare Mandzukic prima punta. Max chiede al Croato meno rientri e più gol. Nel mirino di Gonzalo c'è il ritorno in campo con l'Olimpiacos o almeno con l'Inter. Poi il ribaltone al Milan, Via Montella, Gattuso, Fada, Paravento. La società copre anche i propri errori puntando su un personaggio amato dai tifosi e benedetto da Berlusconi. Poi Toro, pensate, Anculo è costato 84 volte meno di Bonucci. E poi all'Atalanta, ancora Cristante, Benevento K8, Toro raggiunto. Nel taglio basso, manovre di Palazzo, la A accelera per evitare la FIGC commissariata, Vegas verso la Presidenza. E poi l'intervista, Corso lo consagra Icardi, ha un gol da lui e già nella storia dell'Inter cresca ancora per non perderlo. Le panchine Iachini, Sial, Sassuolo, L'Alaves, Silura, De Biasi, poi il basket, Petrucci, Sacchetti, un esempio per tutti. La moto, un parco a tema Ducati nel 2019 a Mirabilandia. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con i nostri esperti di Meteo 6, poi torniamo con la seconda parte della rassegna. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione, riepriamo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dalla pagina Abruzzo del messaggero, la pagella del benessere, la qualità della vita nella classifica del sole 24 ore, Pescara, scala 19 posti, a spingere il capoluogo adriatico, cultura, eventi e tempo libero, in netta crescita anche Teramo, Chieti e L'Aquila in difesa. Le criticità nella città di Flaiano e D'Annunzio riguardano soprattutto la criminalità e il funzionamento della giustizia. E poi un'altra notizia, unicredit talk, uno stimolo economico alle imprese. Continuiamo su questa notizia andando sul quotidiano Il Centro, dove si vive meglio? Questo è un estratto della classifica sulla qualità della vita, vedete il posizionamento delle nostre città. Teramo vince la sfida in Abruzzo, Pescara ottava per cultura e tempo libero, ma nella classifica generale la regione non brilla. Ieri c'è stato il commento e una reazione positiva da parte del sindaco Alessandrini. La CNA dice realtà contraddittoria, Alessandrini come detto ha festeggiato un bel risultato, che ha detto essere frutto del lavoro dell'amministrazione. Noi proprio Alessandrini andiamo ad ascoltare con l'intervista di Paolo Renzetti. La speciale classifica del Sole 24 Ore pubblicata oggi certifica il salto in avanti di Pescara come qualità della vita. Sindaco Alessandrini, 19 posizioni in più rispetto allo scorso anno. È una classifica che ci fa naturalmente molto piacere, un balzo in avanti rimarchevole, perché siamo appunto la terza performance italiana, abbiamo risalito 19 posizioni stabilizzandoci al 62esimo posto. Queste sono classifiche che però significano anche il lavoro che c'è alle spalle. Il dato più importante secondo me è quello per cui noi siamo, sempre secondo questa classifica, all'ottavo posto complessivo in Italia per qualità della nostra offerta per il tempo libero e per la cultura. Allora questo ti fa pensare che con la cultura ci si può campare come? E che i progetti strategici, penso a questo documento che noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale, cioè Pescara città della conoscenza e del benessere, non sono frutto del caso, non sono frutto di sterili esercizi retorici, ma sono il frutto del lavoro e della passione delle persone. Quindi quando coincide quello che tu pensi in estratto con quella che è la declinazione concreta, beh certamente quello è un giorno di festa. Ci sono ambiti vari, penso dalla ricchezza dei consumi e Pescara resta sostanzialmente la locomotiva d'Abruzzo per un momento congiunturale complicato. Poi c'è il, penso al dato ambientale dei servizi, la circostanza per cui lo scorso anno per esempio i problemi della balneazione sono stati, come dire, archiviati o quasi, certo ha contribuito. E poi c'è il dato demografico, c'è la questione della sicurezza, insomma una fotografia articolata rispetto alle tante sfaccettature di cui si compone una città con un risultato che mostra ancora una volta di più in modo chiaro la forte attrattività della nostra città che resta comunque motore dell'Abruzzo a prescindere questo da vecchi o nuovi campanili ed è appunto la direzione giusta verso cui continuare a lavorare. Torniamo sul messaggero, cambiamo argomento però, ci sono gli sviluppi dell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano. Il titolo, quell'albergo andava sgomberato dal pomeriggio del 16. I consulenti della Procura elencano nella perizia le colpe dei varienti, niente mezzi, coordinamento tardivo, così l'emergenza è finita fuori controllo. Il verbale, la carta valanghe sepolta dalla polvere, certo che l'ho trovata. Carlo Giovani, dirigente regionale del Servizio di Prevenzione ai Rischi di Protezione Civile dal 2013 al 2015, parla della carta storica del pericolo valanghe, un documento fondamentale per l'approvazione del piano di prevenzione. Ne parla durante l'interrogatorio col PM Andrea Papalia e degli avvocati del sindaco di Farindola, Elario Lacchetta, e fa una rivelazione sconcertante. Quando sono entrato lì l'ho trovata appoggiata in un pavimento, in uno scatolone con cinque dita di polvere sopra. Ho detto a Sabatino Belmaggio che cos'è quella roba e lui ha detto Carlo questa è la carta storica delle valanghe che è stata fatta nel 2007. Sei anni a prendere polvere, in uno scatolone sono raccolti alla rinfusa documenti e CDA gli atti fondamentali per arrivare alla carta di localizzazione delle pericolo valanghe, l'adempimento previsto per legge dal 92 che avrebbe potuto prevenire la strage. E poi ancora sull'inchiesta il piano regolatore rimasto nel cassetto ha spianato la strada al resort di lusso. La perizia geologica di Angelo Iezzi, allegata al PRG, chiedeva uno studio sui precedenti storici in materia di Slavine. Poi le carte prelevate l'estate scorsa dai carabinieri forestali dopo la mancata approvazione nel 2011. Restiamo sempre all'inchiesta Rigopiano, andiamo a vedere cosa scrive il quotidiano Il Centro. Eccolo qui il titolo. Il prefetto non ci ha mai convocati, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco smentiscono la tesi di provolo e il 16 gennaio scorso non eravamo operativi. Il comitato operativo per la viabilità fu attivato solo il giorno della tragedia, troppo tardi. Smentito anche il dirottamento verso l'albergo della turbina, inviata per salvare due pensionati. E poi ecco la mail che tira in mezzo la politica. e del 2014 la richiesta di fondi per la carta pericolo valanghe di cui la regione non si fece mai promotrice. Nei messaggi si scopre che l'allerta non fu inviata il 18 gennaio, non c'era personale. Qui vedete anche la mail per informare, che doveva informare il presidente della regione. Lasciamo adesso le pagine regionali, passiamo a quella di Pescara, sempre rimanendo al quotidiano il centro. Nuova Pescara, la fusione dei comuni non farà salire le tasse. Il dirigente del capologo adriatico Dezio scrive a D'Alfonso e Alessandrini Ecco come si risolvono i problemi per la nascita di una città più grande. Questi sono appunto i quesiti che sono stati posti e le relative risposte. Sindaci ancora perplessi, però il progetto non convince. Maragno teme che i costi della fusione ricadano sui cittadini, mentre Dilorito chiede più tempo, ma per Alessandrini si tratta di una opportunità di crescita. Scendiamo e cambiamo argomento. Successo del weekend di sconti, Cuzzi, aumentate le vendite in centro. Ora pensiamo alle iniziative di Natale. Questo è il consuntivo sul cosiddetto Black Friday. Proseguiamo sempre sul quotidiano il centro. Adesso la cronaca. Scaglia il televisore contro la ex arrestato. Trentenne pescarese in cella. Riccione dopo l'ennesima aggressione. La donna è stata picchiata anche con una scopa. E poi donna dà innescandescenze sul treno e aggredisce gli agenti su una freccia bianca diretto verso sud. Ancora cronaca. Slitte il processo a Don Vito. Si ricomincia dai testimoni. Questo è il processo per gli abusi sessuali su un minore. Continuiamo sul centro. Una perdita d'acqua da quattro mesi in via Stradonetto. L'ACA non interviene perché per il comune è area privata, ma lo stesso ente ha realizzato asfalto, luci e fognature. Poi via Fabrizi piove guano sui tavolini del bar negoziante presentato esposti alla ASL e ai vigili urbani. Ancora un biglietto unico e apertura nei festivi per tre musei cittadini. Il Consiglio Comunale approva l'affidamento in gestione alla Fondazione delle Genti del Cascella e del Museo del Mare. Sempre da Pescara, casa d'annunzio ripulita con la vernice dei mormoni. Donata al comune una sostanza speciale per togliere le scritte dai muri dell'edificio e sabato prossimo la comunità religiosa inaugurerà il punto di preghiera ai colli. Nella pagina invece di Monte Silvano, volo cancellato Roma-Parigi, notte in aeroporto con il figlio malato, all'Italia è stata condannata. Avvocato di Città Sant'Angelo ottiene dal giudice di pace un indennizzo pecuniario e un risarcimento del danno morale. Poi la fusione dei comuni, comitato civico, diciamo noi, debito in carico a Pescara. Sempre dalle pagine di Monte Silvano e dell'area metropolitana, il distretto sanitario verrà aperto a primavera. Sopra il luogo del sindaco e del manager dell'Asle in via di Vittorio, il cantiere procede e finalmente dopo vent'anni questa struttura sarà completata. Andiamo avanti. Via un concorso di idee per la nuova piazza Sirena. Francavilla, l'ingresso del nuovo auditorium sarà realizzato con materiali ecosostenibili. Al vincitore sarà riconosciuto un premio di 7.500 euro. Vedete la situazione attuale dopo l'abbattimento dello storico Palazzo Sirena con il torrione che gli stava alle spalle per cui adesso c'è necessità di procedere con i lavori di messa in sicurezza ma anche di sistemazione della facciata e questo è l'interno dell'auditorium recentemente ristrutturato. Proseguiamo ancora nella pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara. Truffe, ricatti, bugie, commerciante finisce in carcere. Popoli, l'uomo condannato deve scontare 8 anni e mezzo e a letto manoppello, allontanato da casa, un marito violento. Torniamo sul messaggero. Apriamo la pagina di Pescara. Qui l'apertura è dedicata ai musei. Tre musei in gestione, così il comune salva i leggenti d'Abruzzo. Altri 90 mila euro alla fondazione per occuparsi dei Poli Cascelle e Meraviglie del Mare che chiuderà presto per lavori. E poi il restauro della fontana di Spalletti affidato ad esperti delle belle arti, la fontana che si trova nei pressi del Tribunale di Pescara. Andiamo a vedere le altre notizie. Bilancio rosa per il Black Weekend. Ottimi affari, prova superata alla grande da Comune Associazioni di Categoria e Centro Commerciale e Naturale. Danelli, presidente di Confcommercio, dice esperienza da ripetere. Cuzzi e Gianpietro, ora subito al lavoro per le feste di Natale. Scendiamo nella pagina. Forestali chiude la caserma, ultimo presidio di legalità. L'onorevole Fusili è interessato il ministro Pinotti. Montesilvano ha già perso la stazione e il posto di polizia. E poi altre notizie. Senza biglietto sul treno prende a calci gli agenti. Scaglia un televisore contro la ex è stato arrestato. Siamo alla pagina dell'Aquila, sempre sul messaggero. Andiamo a vedere. Cultura costretta all'esilio, riesplode il caso degli spazi. Lo spostamento del musical su Tenco ha riacceso aspre polemiche in città. L'auditorium della Guardia di Finanza è ancora off-limits per concerti e teatro. Rischia di essere trasferito anche lo show del grande pianista Stefano Bollani del 17 di dicembre. Su queste polemiche, sull'ennesimo spostamento degli spettacoli all'Aquila, andiamo a vedere il servizio. Dopo Noa Pescara, Rocco Papaleo a Teramo, continua l'odissea, è proprio il caso di dirlo, della società aquilana dei concerti Baratelli, costretta ancora una volta a spostare un appuntamento del cartellone in un'altra città. A nulla è servita dunque la conferenza stampa di qualche settimana fa del maestro Giorgio Battistelli. L'auditorium della Finanza non è ancora disponibile e la società ha deciso di non cancellare la data del 3 dicembre. Il concerto spettacolo Forse non sarà domani, vita e canzoni di Luigi Tenco con Rocco Papaleo, in programma nel cartellone della Baratelli per domenica 3 dicembre, si svolgerà nella data prevista quindi al Teatro Comunale di Teramo con inizio alle 18.30 anziché all'Aquila, grazie alla collaborazione con ACS Abruzzo Cultura Spettacolo. Felicemente in bilico tra la dimensione teatrale e la vocazione cantatoriale, Rocco Papaleo ripercorrerà un pezzo della storia musicale italiana, svelando il legame sincero tra lo spirito di Luigi Tenco e il suo straordinario messaggio d'autore, a 50 anni di distanza a quella vicenda a Sanremese ancora avvolta da un doloso alune di mistero. Le musiche di Luigi Tenco sono rielaborate da Roberto Molinelli per la band formata da Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al contrabbasso, Marco Saniglia alla tromba e Davide Savarese alle percussioni. Attraverso brani più o meno celebre lo spettacolo, che già nel titolo ripropone il senso dell'omaggio alla canzone di Tenco, racconterà il pubblico di ogni esperienza dell'artista fuori dagli schemi. Nonostante gli sforzi possibili che la Guardia di Finanza stessa e il Comune dell'Aquila abbiano messo in atto, ancora non si trova però una soluzione per la disponibilità dell'Editorium Florio, unico spazio nella città dell'Aquila a poter ospitare eventi di grande affluenza. E così, come già accaduto con il concerto di Noa, dicevamo, il 6 novembre scorso realizzata a Pescara, anche in questo caso la Baratelli ha deciso di non cancellare la data programmata da oltre un anno e pensate in uno spazio, quale l'Auditorium Florio, che dal 94 ad oggi è sempre stato disponibile ad accogliere grandi eventi. Anche per questa occasione sarà cura della Baratelli mettere a disposizione numerosi autobus per gli abbonati e per il pubblico che avrà acquistato il titolo d'ingresso negli uffici dell'Ente. I biglietti sono disponibili sia all'Aquila che a Teramo. Andiamo avanti, sempre sul messaggero nella pagina di Avezzano sul Mona. Sanità è chiesto un consiglio straordinario. A Palazzo di Città soltanto interrogazioni e interpellanze con relatori Cipolloni e Cascere, in parte Ligi dei Cinque Stelle, poi tutti d'accordo sull'emergenza dell'ordine pubblico e la situazione nei reparti, gravi le carenze denunciate. Andiamo sul quotidiano Il Centro, sempre notizie dall'Aquila. Marsica, inchiesta per omicidio, morte della badante, c'è un indagato. La 37enne romena era caduta per le scale, ma gli investigatori sospettano un delitto e nei guai un suo connazionale. Poi il rompe nel mappe picchio un invalido. Barisciano, Romeno, aggrilisce 63 anni in casa dopo la lite a una festa e gli frattura il setto nasale. Nel Taglio Basso, Santa Croce ok dal Tar a Colella. I giudici può usare la sorgente Fiuggino. L'imprenditore riparte la produzione. E poi, ancora, come vedete, la violenza nel map a Barisciano. Ancora, per quanto riguarda sempre Barisciano, Siggismonti, mai prese mazzette, chiesta la revoca dei domiciliari. Il funzionario comunale respinge la concussione davanti al GIP. Andiamo ad aprire adesso la pagina di Chieti. Sempre sul centro, l'Università d'Annunzio, ex DG licenziato, accordo per 185 mila euro. Del vecchio chiude davanti al giudice l'addio anticipato all'incarico con un anno di stipendio pagato, intesa amichevole. E poi, l'Ateneo sostiene la rinascita di Farindola. Delegazione di docenti e studenti di geologia in visita al comune, pronti a dare consulenza geotecnica. Nel taglio basso, Miria, domani l'addio allo scalo e poi Lanciano, favorì la prostituzione, va a giudizio. Torniamo sul messaggero per andare ad aprire la pagina di Chieti. Eccola qui. Niente dams nell'ex caserma, rischio il nuovo polo sul colle. Il corso avrebbe portato studenti in centro. L'Ateneo chiede chiarezza sulla concessione, stoppa la transazione miglioraria per i terreni nel villaggio, via l'accordo con Del vecchio. E poi, Attiosceni in treno e segue una ragazza, bloccato il maniaco. Nel taglio basso, la tragedia, ci arma, si fa l'autopsia. Domani si svolgeranno i funerali. Nella pagina della provincia, a tempo, i parcheggi per disabili, fresa grandinaria, disco orario per i portatori di handicap, spiazza tutti. La novità introdotta dall'ordinanza del sindaco, gli invalidi potranno lasciare la macchina negli stagli riservati solo per un'ora e protesta anche per le barriere architettoniche. Passiamo alla pagina di Teramo. C'è in primo piano l'inchiesta che riguarda il rettore D'Amico. Ateneo avviso di peculato per D'Amico. Il rettore rivela, mi è stato notificato l'atto di fine indagine, nel mirino il doppio incarico all'università e all'azienda tua. Secondo l'accusa, avrebbe dovuto lavorare a tempo pieno per poter giustificare uno stipendio dell'attività accademica. In due anni e mezzo non ho mai percepito alcun compenso per evitare contestazioni, ho ottenuto anche l'ok dall'avvocatura di Stato e la replica di D'Amico. E poi studenti, sesso sicuro e cure mediche, questa è l'iniziativa dell'università, assistenza sanitaria anche con l'uso di defibrillatori, arrivano psicologi e distributori di profilattici. Prima di andare a vedere il servizio, andiamo nel taglio basso, crisi TV, scattano 92 licenziamenti. Invece torniamo all'università e andiamo a vedere il servizio sul poliambulatorio dell'Unite. All'Università degli Studi di Teramo il benessere degli studenti è importante quanto la cultura. Per il loro welfare è stato così realizzato all'interno dell'Ateneo un poliambulatorio medico che potrà assistere i ragazzi per alcune loro esigenze. Disturbi del comportamento alimentare, ne soffrono 3 milioni di giovani italiani. Sesso sicuro, più 400% e oggi l'incidenza delle malattie sessualmente trasmissibili. Gestione dello stress, dipendenza da social media. Ma anche avviamento al volontariato e corsi di guida sicura. Solo nel 2016 sono morti di incidente stradale 260 ragazzi tra i 20 e i 24 anni. Questa università non solo cultura ma anche tanto welfare. Assolutamente sì, affinché i nostri studenti siano non solo dei professionisti formati in maniera efficiente ed efficace, stiamo molto investendo sul welfare studentesco. Bisogna essere consapevoli del ruolo che ogni studente deve avere. Quindi da qui un modello fortemente trasversale che accompagni lo studente anche a una crescita e una maturità di essere persone consapevoli del ruolo che hanno nella società. Quali servizi voi offrite? Abbiamo fatto uno studio, abbiamo mappato le esigenze, abbiamo mappato le problematiche dei nostri studenti. Avvieremo da subito dei corsi di formazione per le malattie sessualmente trasmissibili, per i disturbi alimentari, per la guida sicura e per le malattie dalle dipendenze dei social. La situazione di benessere influisce positivamente sul rendimento degli studenti, sostiene il magnifico rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, orgoglioso del nuovo poliambulatorio dell'Ateneo Teramano, tra i primi in Italia e che già effettua circa 70 visite al mese. Una bella novità qui all'Università di Teramo, un poliambulatorio. Un poliambulatorio ed altri servizi che hanno come obiettivo quello di migliorare il benessere dei nostri studenti. Noi gli studenti ormai offriamo dei percorsi formativi in grado di trasformarli da matricole in eccellenti professionisti. Vogliamo fare in modo che possano fare questo attraverso un impegno e potendo studiare in condizioni di benessere. Da qui queste iniziative di supporto sono convintissimo che saranno accolte molto bene dai nostri studenti. Sempre sul messaggero nella pagina della provincia computer spuntano elementi importanti. Pittrice morta lo ha dichiarato il pubblico ministero Andrea Laurino. Sulla base del lavoro che sta svolgendo il perito informatico Luca Russo, ieri all'ospedale di Torrette di Ancona verifica su quanto trovato addosso al corpo della Rapposelli, strani pezzi di carta sulla pelle. Andiamo a vedere la pagina del centro dedicata a Teramo. Ritroviamo l'inchiesta sul rettore doppio incarico ad amico, PM in denità illegittima, chiuse le indagini e l'accusa di aver percepito le somme. Mentre era presidente di Tua e la reazione chiarirò tutto al più presto. Nel taglio basso costringe la moglie a vedere siti porno a Silvia, ex marito a processo per maltrattamenti e stalking. Proseguiamo le notizie da Teramo. Sulla città incontri frenetici in vista del Consiglio Clu, le minoranze al Caffè de Paris, Gatti pranza compomante, riunisce Futuro In, Bluc intanto viaggia in macchina. Varato il bilancio bis, l'aggiunta approva il nuovo documento rivisto e corretto. E poi abbiamo già visto l'unità e primo ateneo d'Italia nel welfare. Proseguiamo con l'inchiesta di D'Amico, doppio incarico e tablet, chiusa l'inchiesta sul rettore. Andiamo alle altre notizie. Immacolata con luminari e corso illuminato, intanto il Comune ufficializza il contestato spostamento della Fiera dell'Agricoltura dallo stadio al Parco Fluviale. La guerra del Comunale diventa causa civile. Il Tar dichiara inammissibile il ricorso di ACS contro la delibera comunale che assegna le date alla Riccitelli. Guai tecnici, intanto per motivi tecnici, slitta ad anno nuovo il secondo spettacolo della stagione di prosa della Riccitelli. Per quanto riguarda la qualità della vita, Teramo è la provincia dove si vive meglio. Secondo lo studio annuale del quotidiano Il Sole 24 Ore, recuperate ben 16 posizioni rispetto al 2016. E poi stadio vietato per 27 Ultras della Nuova Santa. Arrivano i daspo della Questura dopo il ritrovamento delle mazze modificate sui bus in trasferta a Luco. Il caso Rapposelli, un pezzo di carta sul corpo della pittrice, sarà analizzato per capirne la provenienza. Intanto al setaccio degli inquirenti, anche i PC e i pendrive di Simone Santoleri. Ancora dalla provincia, matrimonio trasformato in un incubo, 46 anni di Silvia e processo per maltrattamenti in famiglia. Andiamo allo sport, andiamo a vedere subito il Teramo, perché ieri si è giocato al Bonolis. La Samb passa al Bonolis, Teramo al tappeto. Primo tempo equilibrato, ma nella ripresa Bove sblocca il risultato. Il Diavolo ci prova, ma subisce lo 0-2 al 96esimo. Il KO del Diavolo, prima frazione equilibrata. Tasta perde Amadio a fine tempo, nella ripresa entra Vallocchi e serve a Bove il pallone del vantaggio. Raddoppia Miracoli, a tempo scaduto, espulsi Calore e Caidi. Brutta sconfitta per il Teramo, che andiamo a vedere nel servizio di Jacopo Forcella. Il Teramo perde un derby in maniera sanguinosa contro la San Benedettese. Vittoria per il Rosso-Blu arrivata nella ripresa con i gol di Bove e nel finale con il calcio di rigore realizzato da Miracoli. Le solite amnesie, i soliti problemi in attacco per la squadra di Antonino Vasta, che a fine primo tempo ha anche perso Stefano Amadio. Una ricaduta dell'infortunio che lo ha tenuto fuori qualche settimana fa, gli ha fatto saltare alcune partite. La mossa vincente di Ezionino Capuano nella ripresa, l'inserimento di Vallocchia, che al 53esimo ha scodellato in mezzo un pallone che la retroguardia di casa non è riuscita a liberare. Ed è proprio Bove scelto nel 3-4-1-2 da Capuano a ribadire da pochi passi in rete. Il Teramo ci ha provato con la forza della disperazione, è andato un paio di volte vicino al gol del pareggio, con Graziano che ha preso il posto per l'appunto di Amadio nel primo tempo, ma senza fortuna. Anche con Tulli e con Foggia, sempre nel corso del secondo tempo. Il problema rimane sempre lo stesso, ovvero il Teramo fa fatica a realizzare gol. Nel finale, oltre alla sconfitta, è arrivato anche il secondo gol su calcio di rigore, per fallo di calore su Esposito, che insieme a Vallocchi ha cambiato il volto del secondo tempo. Peraltro Teramo che esce con due gol sul gruppone e due cartellini rossi, perché spulso Caidi, doppio giallo per lui, doppio giallo anche su calore, il secondo che ha innescato il calcio di rigore di Miracoli. Una sconfitta ancora più pesante per il Teramo, perché adesso avrà due settimane di riposo, avrebbe dovuto giocare contro il Modena, Modena che non fa parte più di questo campionato. Dunque per il Teramo appuntamento al prossimo 9 dicembre con il Fano, e sarà una partita davvero da non sbagliare, perché adesso la posizione in classifica dei Biancorossi è davvero deficitare. Dallo Stadio Bonolis è tutto, Teramo 0, San Benedettese 2. Proseguiamo a parlare del Teramo, andiamo a vedere i titoli delle altre testate. Sul quotidiano il centro, il titolo sul Teramo, la Samb è più cinica, il Teramo cade, non basta la generosità ai Biancorossi puniti da un gol di Bova, è troppo pesante lo 0-2 che arriva su rigore al 97esimo. Nel taglio basso, record stagionale di presenza al Bonolis, 2.685 spettatori, sfottò estricioni sugli spalti e multe in arrivo per i fumoggini lanciati dalla curva Biancorossa. Andiamo a vedere anche il titolo del messaggero sulla partita di ieri sera, Teramo i soliti errori, passa la Samba, finisce 0-2 al Bonolis, la partita più attesa pesa l'infortunio di Amadio, rosso-blu spietati, lo abbiamo visto nel servizio in precedenza, fumogeni, gara sospesa per qualche minuto, a sta solita storia, creiamo tanto e non segniamo il patron Campitelli, sceglie di vedere la partita da solo, fischi per i prezzi. Andiamo a vedere adesso invece i titoli sul Pescara, nella prima pagina dell'Abruzzo Sport del quotidiano il messaggero, esame di riparazione in Coppa, questa sera a Marassi alle 21 il Pescara contro la Samp di Giampaolo, più che il risultato conta il gioco. Zeman inserisce dall'inizio Gans, finora oggetto misterioso, spazio anche ai tre grandi ex campaniero Fornasier e Zampano. Intanto è emergenza a centrocampo, Palazzi ha fatto crack, purtroppo infortunio per lui al crociato e dunque dovrà essere operato e ci vorrà il tempo necessario per il recupero. Nel frattempo si parla anche del nuovo stadio del Pescara, in arrivo Vialli, Malagoa, Bodi e Marotta, giovedì pomeriggio al porto alle 17. Si terrà una conferenza per illustrare il nuovo progetto. Su questa pagina anche il Giro d'Italia, Abruzzo protagonista con due tappe. L'assessore Di Matteo, avremo l'arrivo a Campo Imperatore, poi la sosta a Penne e Gualdo Tadino. Andiamo a vedere sul Quotidiano Il Centro il titolo che riguarda il Pescara, la Coppa Italia, stasera il quarto turno. Pescara all'esame Giampaolo, Zeman rilancia Campagnaro, l'argentino verso l'esordio contro la Sampdoria in attacco Gans, Scalpita. Il Boemo studia un robusto turnover per la sfida contro i brucerchiati degli ex Torreira, Verre e Caprari. Chi vince dovrà vedersela con la Fiorentina negli ottavi. Andiamo a vedere le probabili formazioni di questa sera. Alle 21 arbitra Furnò di Roma 1, allo stadio ovviamente Ferraris. Il Pescara con il solito 4-3-3 di Zeman, Pigliacelli in porta, Crescenzi, Fornasier, Campagnaro e Zampano in difesa, Valzania, Canutè, Coulibali a centrocampo, Capone, Gans e Benali in avanti. Andiamo a vedere la formazione della Sampdoria. Pugioni in porta, Murro, Regini, Ferrari e Sala in difesa, Verre, Capezzi e Praet a centrocampo, Kovacchi e Caprari davanti a supporto delle due punte. Alvarez e questo è il 4-3-1-2 dell'Abruzzese. Giampaolo è una doppia sfida, insomma, anche interessante da questo punto di vista. Poi andiamo a vedere le altre partite che si sono giocate ieri. Atalanta-Benevento in Serie A è finita 1-0. Poi il Cesena ha battuto il Brescia, sempre per 1-0. Andiamo a vedere le altre notizie. Per la Serie D, l'Avezzano va su Bisegna. L'Avastese cerca una punta. Oggi l'Assemblea dei Socii all'Aquila per il bilancio. Ranucci passerà all'area tecnica. Il gruppo Chiodi vuole reteizzare i debiti e portare avanti la gestione sportiva. Scendiamo nel taglio basso. Giulia Nova scappa, Chieti recupera, eccellenza. I giallorossi volano a più 6 e i tiatini rosicchiano punti. Domani ci sarà la Coppa. Penso che ci possiamo fermare. Il tempo a disposizione è terminato. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina. Mattino 6 torna domani alle ore 8. Invece gli appuntamenti di oggi sono con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. E poi alle ore 21 l'appuntamento con Proteramo. La trasmissione è condotta da Jacopo Forcella. Chiaramente si parlerà del derby approfondendo tutti gli aspetti di questa partita che si è giocata ieri sera nel posticipo di Serie C. Partita, come abbiamo visto, finita 0 a 2 per la San Benedettese. Davvero tutto. Grazie ancora e buona giornata. Grazie ancora e buona giornata. Grazie ancora e buona giornata.